La Guardia di Finanza di Teramo ha sequestrato beni per 200.000 euro ad un noto cittadino teramano. I soldi, custoditi libretti di risparmio, depositi e conti correnti bancari accesi presso istituti di credito con sportelli nel comune, sono stati recuperati a fronte di un'evasione accertata dal Comando Provinciale di Teramo. Ad emettere il provvedimento cautelativo, il GIP del Tribunale di Teramo ha conclusione di indagini delegate di Polizia Giudiziaria scaturite da una verifica fiscale. Le Fiamme Gialle hanno applicato una particolare normativa contenuta nella legge finanziaria del 2008 che consente in talune condizioni, ovvero in presenza di reati tributari, di richiedere l'emissione di un provvedimento di sequestro di beni mobili ed immobili di proprietà dell'evasore aventi lo stesso valore delle imposte evase, da qui il principio del sequestro per equivalente. I servizi della specie si inquadrano nella incessante azione svolta dalle fiamme gialle di Teramo al contrasto all'evasione fiscale, ponendo sempre maggiore attenzione all'effettivo recupero delle imposte evase mediante l'aggressione del patrimonio immobiliare e immobiliare del responsabile dell'evasione, contribuendo in tal modo a ristabilire quel principio d'equità e proporzionalità contributiva previsto dalla Costituzione.